Con questo video tutorial vediamo come inserire dei contenuti direttamente da un documento elaborato con LibreOffice la versione elaboratura dei testi, cioè Writer e ammettiamo di voler andare a inserire all'interno del proprio sito scolastico il piano dell'offerta formativa avendo creato la specifica pagina sul POF quindi per prima cosa, dopo che mi sono loggato alla mia amministrazione del sito clicco su Nuovo, Pagina e scrivo Piano dell'offerta formativa ecco, naturalmente immagino di avere già installato il bel plugin TinyMC Advanced che mi consente appunto di avere a disposizione tutta una serie di strumenti particolarmente utili come vediamo nell'editor dei contenuti noi abbiamo la possibilità di visualizzare il contenuto in modalità testo o HTML o visuale e scegliamo pure visuale e andiamo a visualizzare il nostro poffino ben fatto, così detto ecco, con un'unica avvertenza naturalmente il poffino deve essere ben formato cioè deve avere i titoli al posto giusto e per quello che riguarda i testi ecco, questa può sembrare una piccola interessante novità è opportuno che, adesso vado in formato e stile formatazione il testo non compaia come stile predefinito ma come corpo del testo perché è un esperimento che ho fatto poco fa ho appunto notato come nel caso in cui noi abbiamo i paragrafi standard formatati o stilizzati meglio come corpo del testo si mantiene in modo corretto il marcatore dell'HTML che si chiama P, altrimenti fa un po' di pasticci il copy and call in Wordpress mettendo degli stili aggiuntivi ecco, questa è l'unica avvertenza ecco, noi abbiamo qua storia, l'indiceo, nome e scuola eccetera, andiamo a selezionarci un bel po' di testo andiamo fino, direi, alla tabella esclusa anzi, fino al corso tradizionale, tabella esclusa fatto questo, tasto destro del mouse copia, andiamo nella nostro editor Wordpress e CTRL V, ci copiamo tutto vedete che si è mantenuto il tutto piuttosto bene troviamo una storia del liceo, nome e scuola però vedete che è inserito come titolo 1 questo è in modo assai corretto perché nella nostra originale in effetti andiamo qua a vedere proprio per bene storia del liceo, nome e scuola è proprio in testazione 1 perché? perché una cosa è andare a formare il documento col vettore dei testi con i titoli che partono dall'inizio e un conto inserirlo invece all'interno di un contenuto Wordpress siccome Wordpress già utilizza il titolo 1 per il nome del sito e il titolo 2 per il nome della pagina noi partiremo qua da titolo 3 e quindi dovremo fare la prima importante variazione storia del liceo, nome e scuola diventerà un titolo di livello 3 ripeto, titolo 2, piano dell'offerta formativa il suo primo figlio è storia del liceo, nome e scuola proseguiamo in basso notiamo che qui c'è un'ancora cosa vuol dire? vuol dire che lì c'era un segnalibro che è stato utile poi per realizzare i sommari beh, questo lo togliamo perché è un elemento che non ci interessa ma diciamo che struttura del liceo sarà un titolo 3 lo stesso vale poi per i successivi elementi attenzione che qua l'ho perso vado a cliccare in corrispondenza dell'annulla mi tolgo questa ancorina faccio un cance l'ancora è proprio quel elemento che tra l'altro viene fornito da Dynamics Advanced che consente di creare segnalibri interne ma qua non ci interessano perché appunto il sommario qua non l'abbiamo da fare internamente e diciamo che questo è un titolo 3 naturalmente se il piano di studio di corso di 1 è un titolo 3 il corso tradizionale sarà un titolo di livello 4 perché ne è figlio perfetto avete visto che con una semplice copia e incolla si è ottenuto il risultato voluto per essere ancora più sicuri vado a vedere nel testo cioè in HTML vedete che assolutamente non c'è una virgola di codice sporco e questo già mi consente di fare un piccolo approfondimento su quelli che sono alcuni dei marcatori principali dell'HTML e lo vediamo bene da qua ecco con questo parallelo visuale testo visuale abbiamo uno storia del liceo nome e scuole poi i vari paragrafi che si sosseguono poi facciamo attenzione dopo mille iscritti si va a capo ma non si esce dal paragrafo e c'è dopo questa prima sperimentazione com'è l'effetto in HTML? andiamo a vedere il marcatore che va a marcare il titolo di livello 3 H come Hiddings 3 perché è titolo di livello 3 aperto e chiuso tutto quello che è contenuto all'interno di questi marcatori è il titolo di livello 3 già notiamo che il marcatore in HTML si scrive così minore nome del marcatore maggiore e quando termina c'è una barra uno slash poi vedete il primo paragrafo il marcatore di paragrafo è P e qua lo chiudiamo con piena autonomia poi ne inizia un altro e fedelmente come è stato poi stilizzato anche il diciamo il modo con cui vengono presentati i testi in questo tema di Wordpress si crea uno spazio verticale di separazione ecco ecco qua la capo vedete mille iscritti poi c'è dopo questa prima sperimentazione ecco qua visto il marcatore per andare a capo rimanendo dentro il paragrafo cioè il corrispettivo dell'andare a capo che nell'elaboratorio dei testi viene realizzato con quella combinazione di tassi shift invio minore br spazio slash maggiore e poi ci sono ancora tutti gli altri per recapitolare questo comportamento vediamo qua questa pagina vedete noi abbiamo un titolo 3 poi abbiamo una serie di paragrafi se vogliamo che due frasi dello stesso paragrafo siano di seguito non mettiamo niente in mezzo se vogliamo invece che la seconda frase del paragrafo inizi appena sotto dovremo scrivere in html minore br spazio slash maggiore qui sotto invece c'è un minimo di approfondimento sulla gerarchia i titoli come ho detto sono degli elementi molto importanti di strutturazione dei testi importantissimi per mantenere la coerenza e la leggibilità della pagina importantissimo anche per le persone non vedenti che utilizzando programmi di sintesi vocale navigano più facilmente nella pagina quando il testo è strutturato per livelli di titolo allora se noi partiremo da un h3 cioè da un titolo di livello 3 e avremo dei figli come titoli questi saranno di livello 4 titoli 4 h4 poi dopo potrei avere un altro h3 che è fratello dell'h3 di prima con un suo figlio e un eventuale figlio del figlio quello che importa è che la struttura gerarchica non abbia salti e sia coerente proprio con questa strutturazione tipica ad albero bene ritorniamo al nostro poffino e adesso andiamo a inserirci una immagine un'immagine che era quello che io avete visto nel copia e incolla selettivo automaticamente è stata come dimenticata nel passaggio da libro office a wordpress questa dobbiamo inserirla noi e la andiamo a inserire come contenuto che ho già salvato in locale come si fa ad aggiungere un'immagine si clicca su aggiungi media questa è la nuova versione della gestione di immagini allegate fornite con le ultime versioni di wordpress andiamo a cliccare caricamento file selezionare il file e ce lo andiamo a cercare nella cartella in cui è stato depositato questa cartella sarà in questo caso all'interno di anitel meno tut ecco qua identificata l'immagine io l'apro automaticamente questa cartella diventa un elemento allegato di quale io posso poi mettere anche un titolo e un testo alternativo solitamente io metto lo stesso collegio dei docenti e replico questa informazione come testo alternativo importante perché il testo alternativo descrittivo è quello che fornisce a chi naviga con le sintesi vocali il contenuto informativo che andrebbe perso in quanto il contenuto immagine non può essere visto dalle persone non vedenti poi abbiamo impostazione della visualizzazione uno può scegliere se usare la dimensione reale oppure se fanno una miniatura un pochettino più piccolo scegliamo media e decidiamo anche dove andarla a mettere la vogliamo mettere sulla sinistra e quindi andiamo a inserirlo sulla sinistra cioè in modo che il testo scorra a destra poi è possibile fare in modo che al clic dell'immagine l'immagine appaia nella sua dimensione massima oppure si può anche non mettere nulla se io qua scelgo il link a nessuna vuol dire che l'immagine è un'immagine che fa parte del nostro documento ma che non linka né un'immagine più ampia né un'altra risorsa inserisci nella pagina e vedete che si è formata nella sua posizione il testo sembra molto attaccato ai bordi non preoccupiamoci l'editor visuale di wordpress non mi mostra l'effetto che viene garantito da foglio di stile ma nel momento in cui lo pubblicheremo lo vedremo bene fatto questo adesso non ci resta che andare a proseguire con uno degli aspetti più interessanti ma anche più lunghi che completa l'inserimento dei contenuti in questo caso accessibili all'interno di una nostra pagina andiamo a inserire la tabella tabella facciamo un po' per conto proprio perché merita un'attenzione particolare forse l'unico contenuto che ci provoca un po' di lavoro noi abbiamo già una tabella fatta con certa attenzione a documento di partenza questo ci favorisce andiamo a selezionare l'intera tabella tasto destro copia e andiamo a inserire la tabella nel punto desiderato ctrl b ecco questa è la nostra tabella avete visto che è venuta centrata beh qui c'è subito da dire una piccola cosa purtroppo questo è un piccolo uno di pochissimi automatismi che non funziona da libro office dobbiamo eliminare il marcatore center che è deprecato cioè non è un marcatore accettato dalla grammatica del xhtml strict vedete che qua c'è un center di chiusura quindi vado a toglierle e c'è anche all'inizio della tabella il cui marcatore di riferimento è minore table maggiore andiamo un po' a scorrere più in alto finché la troviamo ancora ancora in alto tabella ha tante righe per cui contiene tanti elementi eccolo qua tolto e andiamo adesso a vedere in visuale come possiamo gestirci il tutto prima cosa con tutti anche elementi di accessibilità della tabella clicchiamo in corrispondenza di inserisci nuova tabella che serve anche per modificarla mettiamo un po' di zero padding celle zero spaziatura celle zero bordo zero questo per uniformarci allo stile clicchiamo in corrispondenza di didascalia tabella che vorrebbe dire più di conti il titolo della tabella e in corrispondenza di avanzate scegliamo scegliamo il cosiddetto sommario summary che è un po' anche qui una descrizione più analitica delle caratteristiche della tabella questo è un piano di studi per materia e anno ok togliamo qua la virgola che non c'entra togliamo anche delle informazioni accessorie sulla larghezza perché la larghezza per il momento che tra l'altro qui è fissata come una dimensione fissa può rischiare di farci dei problemi perché in un layout cosiddetto liquido cioè che si ridimensiona in automatico un elemento fisso può fuoriuscire laddove ci si restringa un po' la finestra attiva quindi li togliamo e aggiorniamo ecco vedete che in automatico qui si è creato uno spazio per il titolo quindi sarà piano anche se può sembrare un po' una ripetizione ma è un elemento di riferimento utile per chi non vede e si deve orientare già con un po' più di fatica in questo insieme di dati corso diurno peraltro nel nostro stile questo questo titolo di tabella che come marcatore si chiama caption viene reso invisibile alla vista per cui non disturba e andiamo adesso più analeticamente a togliere una serie di informazioni aggiuntive che sono gli sfondi e sono eventualmente larghezze inserite nel copia e incolla quindi l'operazione di pulitura la facciamo adesso cliccando in corrispondenza della terza icona togliamo le larghezze che non ci interessano a posto avete visto andiamo un po' per la prima riga diciamo la seconda riga aggiorna c'è la corrente tutte le celle della tabella aggiorna poi andiamo ad aggiornare anche il secondo elemento qua non c'è nulla e qua non c'è nulla allora nulla andiamo nella seconda riga vediamo se c'è qualcosa qui non c'è niente e qui non c'è niente insomma sembra che vada bene annulla andiamo a vedere se per caso c'è un qualche problema qua magari con la riga clicchiamo sul secondo elemento e vediamo che qua notate un colore sfondo che è quel colore di sfondo della riga prima riga e lo andiamo scusate a togliere semplicemente cancellandolo tutte le righe della tabella nel caso ce ne fossero altre e lo aggiorniamo andiamo a vedere qua anche nel secondo elemento e quindi cosa facciamo con il mouse nella seconda riga clicchiamo in corrispondenza della riga avanzate non c'è nulla bene adesso cosa facciamo dobbiamo dire che i materi primo, secondo, terzo, quarto beh qui secondo, terzo forse qui c'è una cosa in più che è scappata vabbè lasciamo così com'è non stiamo tranne il dettaglio di magari un errore qua di proprio scrittura della tabella e andiamo a vederla un po' in modalità html ecco notiamo che qua ci sono tutti sono diventati in automatico come dei testi di diciamo degli elementi di intestazione questo è un po' un problema venuto dall'importazione della tabella dobbiamo togliergli tutti questi elementi allora vediamo qua prenderne uno li togliamo tutti perché qua vedete che è tutto in grassetto per cui tutti sono considerati intestazioni clicchiamo in corrispondenza vedete tipo di cella intestazione diciamo data tipo dato per tutti gli elementi tutte un attimo che si fa fatica qua a selezionare in modo corretto aggiorna ecco così a posto perché in realtà le importanti celle di intestazione sono solo quelle della prima riga cosa vuol dire sono quelle che ospitano i campi materie primo secondo terzo eccetera facendo quel passaggio di eliminazione dello sfondo ha fatto come dire un po' di confusione ma noi sappiamo dove vogliamo arrivare vogliamo che la prima riga sia una riga di intestazione allora l'ho tolta da per tutti per rimetterla solo nella prima riga vado su materia clicco in corrispondenza della terza icona e dico data tipo di cella intestazione di colonna scopo vuol dire di che cosa di colonna per chi per tutte le celle della riga aggiorna vedete che in questo modo è diventata in grassetto soltanto la prima riga bene direi che abbiamo fatto già abbastanza un buon lavoro andiamo a controllare in modalità html e vedete adesso che è tutta giusta c'è soltanto da fare un'aggiunta rispetto a quello che invece l'importazione delle tabelle in word che non crea questo problema aggiuntivo quando c'è questa scritta col gruppo del tutto inutile la togliamo togliamo tutta dall'inizio alla fine cioè facciamo in modo che la fine del caption anticipi invece la scritta del cosiddetto tbody andiamo qua e cancelliamo tutto questo anzi in realtà da colgo fatto direi che siamo a posto vedete che non c'è neanche una scrittura c'è magari questo stile di scrittura font size small 4 o altro non è un errore dal punto di vista html possiamo lasciarlo tranquillamente cos'è che possiamo ancora dire dire che vogliamo le righe alternate come sfondo questo è l'ultimo passaggio prima di completare il lavoro per alternare le righe di sfondo noi mettiamo il mouse in corrispondenza della prima riga dei dati clicchiamo in corrispondenza della seconda icona proprietà riga tabella e andiamo a dirgli una cosa che è legata a una classe che noi abbiamo inserito nel foglio di stile gli diciamo classe valore questo dipende dal nome dato non è infatti valido per tutti i temi ma per il nostro tema è così scriviamo td che sarebbe poi il marcatore di cella alt come fosse alternato e diciamo che questo deve farlo per le righe pari della tabella aggiorna non vediamo ancora l'effetto ma adesso cliccando su pubblica andiamo a vedere il risultato che abbiamo ottenuto ecco pubblichiamo e andiamo a visualizzare la pagina ecco vedete che innanzitutto la pagina viene ben impaginata notate che il testo non è attaccato e la nostra tabella è stata inserita in modo corretto con quella alternanza voluta andiamo anche a fare un controllo sull'xhtml per validare la nostra pagina e vediamo gli errori su cui occorrerà andare a minimamente intervenire in modo da ottenere un esito positivo della validazione del codice sappiamo non essere l'equivalente di accessibilità totale ma è un elemento importante ottimo non c'è da fare nulla il documento è stato diciamo verificato come un documento corretto senza errori con tanti di congratulazioni abbiamo terminato questa prima pagina parte della pagina di una pagina peraltro complessa che è stata realizzata a dovere facciamo soltanto l'ultimo passaggio ammettiamo il piano di offerta formativa di aggiungerlo nel menu come voce aggiuntiva come facciamo andiamo in bacheca aspetto menu siccome va dentro nel menu la scuola clicchiamo sulla scuola e il piano dell'offerta formativa che appare in alto come la più recente pagina costruita andiamo ad aggiungerla e a salvare andiamo a vedere l'esito con visualizza sito vedete che appare e appare in modo corretto così come era stato voluto